Record di visitatori e di vendite. La Fiera dei Librai, edizione numero 53, non ha certamente deluso le attese dei venditori. Un successo confermato dai numeri. Fra il 20 aprile e il primo maggio, circa 150.000 persone hanno attraversato la tensostruttura allestita sul sentierone cittadino. 20.000 ai volumi venduti con un incremento del 40% rispetto alla passata edizione. Davvero molto se si pensa che i titoli offerti quest'anno erano 50.000. La classifica delle vendite vede in testa l'offerta editoriale dedicata ai bambini e l'area bestseller e narrativa che hanno fatto registrare una richiesta di volumi rispettivamente pari al 33 e al 27%. Poi la manualistica, 20%, la saggistica, 11%, l'editoria locale con il 9% di richieste. Grande successo, in particolare ha riscosso lo spazio incontri con una partecipazione di oltre 3.000 persone. Si è appena conclusa la 53esima edizione della Fiera dei Librai, dichiara Cesare Rossi, direttore di promozione Confesercenti, che già stiamo pensando alla prossima. Per quest'anno, nonostante il periodo di crisi economica e qualche bizza del meteo, ha detto, i visitatori della Fiera non hanno fatto mancare il loro affetto e la loro presenza. Un grande successo di pubblico ha concluso, reso possibile anche dalle sinergie con i numerosi soggetti impegnati a promuovere la cultura nel nostro territorio.